Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovissimo video horror Oggi siamo qua anche con l'orario, è horror Sono le 22.57 L'ultima volta siamo arrivati qua in ospedale Quindi andiamo subito a caricare Non mi ricordo che dovevamo fare nell'ospedale però Il mondo è su Facebook Non mi sono scordato di mettere la modalità aereo per quello Non mi si è aperto pure Facebook sul Play Store Però chiudiamo subito questo annuncio ma non lo so come si aiude Madonna ragazzi, questo annuncio di merda Vabbè, non dovrebbero comparire Allora, sto primario, ma dove sta però? Settate che voglio ricaricare Sono riuscito a ricaricare Perché mi ricordo che qua ci stavano dei mob Da affrontare Ok, mi ricordo che qua stava la cassaforte del primario Dobbiamo vedere che c'è stato in questa cassaforte del primario Speriamo che non vediamo il pagliaccio Questa volta Che dove stava sta cassaforte del primario? Madonna, è come sta nascosta Siamo arrivati, sì Eh sì, eh Ecco l'ufficio del primario Stava cassaforte, stava qua Ho preso una chiave magnetica, ok? Questo è dell'ascensore E poi ho preso una pistola iniezione E poi qua ci sta un biglietto Dolce Olivia L'ultima dose di HZ-3 Nella cella frigorifera Al piano 0 Al piano O In teoria Se mi succede qualcosa Prendi e parti con i bambini Ti amo Ah Esali nel contenuto di cassaforte del primario Ok Scendi con l'ascensore di servizio Fino al piano O Quindi Adesso dobbiamo tornare giù Usare l'ascensore di servizio E mi ricordo Mi ricordo Perché questo gioco L'abbiamo giocato in live Circa due anni fa Mi ricordo purtroppo Che al piano 0 Oppure al piano O C'è stava il fanta E il pagliaccio Sì, il fantasma Il pagliaccio c'è stava Non qua stanno sti Cazzo di cosi Mi sta a ammazzare Raga questo E questo è forte Non muore Sentite Dove sta l'ascensore Mi sono pure perso E dove sta Non erano questi ascensori Oddio Vai Che dobbiamo fare Ok In teoria siamo scesi Al piano 0 Oppure al piano O Ok Siamo scesi Trovo un modo Per entrare Nella stanza Del frigorifero Sono più tosti Qua stanno dei morti Io muore Sti morti Non mi fiderei Tanto Quindi tornerei su Non è vero Camera di congelamento Non puoi dire L'allonamento Incendio È di nuovo Rotto Chiamato urgentemente Un tecnico Per riavviare Il sistema Stanza utile Oddio No Mi ricordo Qua che dovevamo Fà Qua ci volevano Tre ore Dobbiamo provare A riavviare L'impianto Antincendio Non era così Che si faceva Scusate Era 1 2 Ma siamo Dei geni Io ce l'avevo Messo 40 anni Tiro l'allarme Antincendio E si apre La cella Di congelamento Però stava Un maniaco Dentro Prendi una dose Di HZ-3 Io intanto Mi prendo Le munizioni Questo è HZ-3 Ok Combinato Con la pistola Abbiamo La pistola Con L'HZ-3 Infetto Il farmaco Ah E io mia sorella Do cazzo la trovo Scusate Inietta il farmaco HZ-3 In tua sorella A casa tua Ah E ora devo tornare a casa La madonna Ragà E non ci arrivo Manco domani mattina A casa Porca miseria E ora devo tornare a casa Pfff Ah Non sono scordato Di togliere la modalità No L'ho tolta La madonna Ma che cazzo sto a dire Ho preso una pistola Qua non lo so che devo fare Se volete installate Sta applicazione Ma Non ve la consiglio Poi Nuno fa quello che gli pare Io so So che devo tornare a casa mia Quindi me ne vado Ho poche munizioni Quindi senza che Ammazziamo Sta gente Qua Io vado qua Dobbiamo prendere La prima strada E ce la dobbiamo Fa tutta La casa mia Dove cazzo stava Ragà Io mica mi ricordo Ti resta Qua la casa mia No Era la prima Io mi devo Fa tutta Sta via Fino alla seconda Uscita Devo prendere Madonna Le devo fa Carl Carl Carlton Street Fino alla seconda Uscita Madonna Sto video Pure lo durerà Tanto Comunque Vi sta piacendo Questa serie Del pagliaccio Quindi perché Non portarla Non mi fermo Sì Questa è Carlton Street E ce la dobbiamo Fa tutta Ce la dobbiamo Fa tutta Carlton Street Qua Mi ricordo Pure mi ricordo Che serviva In qualche modo Sembra che non Ci sia Acqua Eppure Questa Mi ricordo Che serviva Forse Servirà Più tardi Ma comunque Questo gioco È veramente Lunghissimo Cioè Mi fa arrivare Alla fine E poi Mi fa Tornare Tutto Indietro Casa mia In teoria Era No Dove cazzo Sta la casa mia Eh sì Casa mia È la prima È qua Sì 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 Questa qua È casa mia Madonna Siamo tornati Al primo episodio Raga E qua Incontriamo Il pagliaccio Perché Dobbiamo Entrare Nel suo Mondo Se non mi sbaglio Per entrare In camera Di mia Sorella Ops Prologo Addirittura Siamo tornati Proprio Al primo Uè L'ho fatto E invece Era il pagliaccio Non salverai È solo Prolungato Il tormento Di tua sorella La sua mente È completamente Nelle mie mani Molto presto Si abbandonerà La ucciderò E poi uscirò Nel vostro mondo Non perderti Questo spettacolo No Ti aspettiamo Al parco della morte Ti ricordi Dov'è Vero Madonna Sbrigati Molcioso No Vabbè Vai al parco della morte No Stiamo alla fine Il parco della morte È il finale Oh cazzo Mi ha fatto mettere paura Sto schifo Raga Stiamo alla fine Eh no Non stiamo mai Alla fine Non Non può essere Vero Non può essere Vero Non siamo Alla fine Non crediamo Al pagliaccio Non siamo Alla fine Perché ci manca Fognatura E base militare Allora Vediamo Adostare Sto parco Della morte Ok Dobbiamo andare A Westland RD Ok Ho capito Vabbè Stanno qui I cartelli I cartelli Oh cazzo Ah ecco Ma ecco Che serviva L'autopompa No a parte Sti fantasmi Qua Però cerchiamo Di evitarli Tanto noi Dobbiamo girare Qua Questo se non mi Sbaglio Sono le munizioni Che a me Servono A me Deve anche caricare C'è qualcosa Di importante Da fare Qua Sicuramente C'entra L'autopompa E qua C'è Sta il parco Della morte A Westland Esatto Porca Miseria Ragazzi Sta pure La macchina Del salvataggio Io direi Di salvare Che c'è Tutto in fiamme Qua Stanno parecchi Di sti cosi Manco se bruciano E come si fa Sembra Non ci sia Acqua Ma sto parco Della morte Adò stava Scusate Non ho più Le munizioni Il parco Della morte Stava di qua O no No Mappa Eh si Dobbiamo andare qua Noi Per andare Al parco Della morte No In realtà No Dove cazzo Dobbiamo andare Noi Boh Comunque Se non facciamo qua Non possiamo andare avanti Una manichetta Antincendio La devo mettere qua No Ok Ragazzi Si fa sto cosa Scusate Non sono un pompiere No In teoria Così E poi Uno Due E tre No Scusate Scusate Come cazzo Funziona Questo Ok Ce l'abbiamo Fatta Non sono un pompiere Ma ce l'abbiamo Fatta Lo stesso Ok Trasportava Olio Non ho paura Del fuoco Si ma non era di qua Dovevamo andare Noi Al parco della morte Quindi questa sarà un'impresa Proprio hard No Possiamo andare Nel parco della morte Potevamo anche farlo dopo Quello Però ormai L'abbiamo fatto Ce lo troviamo Già fatto Death Park Esamina L'ingresso Al parco della morte Cartelli Leggibili Non siamo topi Da laboratorio Ups Questa è la nostra città E qua abbiamo trovato Oh cazzo Io mi metto pauro No 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 Si segui il palloncino rosso Ah dobbiamo proprio seguirlo Guarda sto cazzo di palloncino Guarda se cammina Se ho sto coso dietro Il palloncino non cammina Vabbè Probabilmente Devo andare Alla fognatura Esattamente Andiamo alla fognatura Che è la Che ci porti il palloncino Sicuramente Esatto Dobbiamo pure scendere Io direi di fermarci qua Stiamo entrando nella fognatura Io mi sa che già l'avevo salutato Però Abbiamo messo piede qua Guardati intorno Nelle fogne Io mo vado un attimo avanti C'è la mappa Farland City Questa è la mappa Sotterranea Ah e arrivano fino alla base militare Ah e raga Raggiungi l'ingresso della base militare Per trovare la chiave Quindi ragazzi Io spero che questo video vi sia piaciuto Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale Voglio Tante visualizzazioni Tanti like Per continuare questa serie Perché il prossimo episodio Sarà epico Riusciremo ad arrivare Al parco della morte Chi lo sa